Molte donne si lamentano perché pensano che gli uomini abbiano perso i valori. Secondo me però questa è solamente una bugia che tu racconti a te stessa, per darti una giustificazione per un tuo errore di scelta. Adesso te lo spiego. Secondo me i valori tradizionali non sono scomparsi, è piuttosto il contesto che è cambiato radicalmente. Prova a paragonare per un attimo la relazione al lavoro. Negli ultimi anni ti rendi conto che è facile trovare lavoro, puoi fare qualunque tipo di cosa, le ricerche anche tramite applicazioni sono diventate istantanee, con un click puoi mandare 300 curriculum, il lavoro a tempo indeterminato è diventato obsoleto quasi, licenziare e licenziarsi è diventato velocissimo. Questa velocità porta con sé inevitabilmente dei pro e dei contro. E tu volente o nolente ti ci devi adattare. Capisci che non è cambiato il valore all'interno del lavoro, sono cambiate semplicemente le dinamiche intorno a cui ruota il tutto. Nello stesso modo nelle relazioni le interazioni sono diventate più veloci, lasciarsi, mollarsi è diventato istantaneo. Adesso le relazioni durano un quarto d'ora. I valori che per definizione hanno bisogno di tempo per emergere, capisci che fanno fatica ad uscire nell'immediato. E tu molto spesso ti prendi degli abbagli. Capisci che però non è sempre colpa degli uomini che non abbiano questi valori. Prova magari a cambiare il modo in cui vai a cercarli. Date più tempo. Di fronte hai pressoché una possibilità infinita di scelte. Devi solo adattarla al nuovo contesto.